Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera a Beppe Marconi Ari in Piazza Grande un'altra volta Ieri eravamo indicatori, oggi siamo in Piazza Grande e giriamo, giriamo è sempre valido se ci incontrano tu offri sempre questo caffè prima non c'è ancora nessuno però, che ricordo davvero prima o poi arriverà allora, carissimo, carissimo Beppe che legge? leggo qui, ti ricordi l'ex assessore? ha scritto un messaggio sabato scorso sulla pagina di Facebook dicendo che il mattonato di Piazza Grande macchiato e danneggiato temo in modo irreversibile ci dice l'ex assessore una piazza va sicuramente vissuta ma anche protetta seguendo le opportune cautele e indicazioni contenute nel manuale di manutenzione che abbiamo predisposto in occasione del restauro della piazza del 2009 così avviene per il Saracino e deve valere per tutti gli eventi da chiunque organizzati tra l'altro i privati dovrebbero rilasciare fideghiussioni a garanzia specie se il bene pubblico ha un rilevante valore culturale è vero questo è vero esce l'obbligo da parte dell'amministra perché che cosa è durante queste manifestazioni ecco il problema diciamo che è stato sollevato da alcuni diciamo dall'ex assessore insomma e da chi poi ha fatto su questo diciamo punto ha fatto anche dei servizi è appunto come è stata lasciata la piazza però intanto questo messaggio dell'ex assessore è stato un po' sbeffeggiato perché dice parla proprio lei con tutte le cose insomma che gli imputano insomma del suo assessorato quindi non è credibile che venga da lei diciamo questa questa sorta di lamentela e questo come prima altri sostengono ancora che comunque la piazza sostanzialmente era già così anche prima nel senso che alla fine è una piazza vissuta e va vissuta perché se non ci viene nessuno cioè che senso anche avere una piazza dove non ci viene nessuno sono d'accordo con te deve essere vissuta però deve essere anche salvaguardata sono d'accordo però insomma non è che si possa permettere a ognuno di fare quello che deve fare più opportuno magari mettere i picchetti fare buchi o cavoli vari e quindi questo anche si deve salvaguardare da quelli che sono poi gli oli e i fritti fatti in questa piazza si sbraita sempre si c'era sempre per queste manifestazioni per quanto sono belle e effettivamente sono belle perché vedi il mercato internazionale vedi questa manifestazione qui diciamo con le associazioni di categoria si danno veramente da fare in questo caso non è particolare però è anche vero che deve pensare poi quello che ripistano la piazza la salvaguarda della piazza e dei diritti poi di tutti i cittadini non è pensabile poter fare una bella manifestazione e poi lasciare tutto così come è non va bene assolutamente va salvaguardato in questo caso non è stato salvaguardato ecco ci sono state per il momento repliche da parte dell'amministrazione comunale anche su questo manuale che dice l'ex assessore di Ringoli è stato diciamo allestito proprio su vorremmo sapere il vice sindaco Gamorini che lui l'ha detto ai lavori pubblici e alla manutenzione e sarebbe il caso che Gamorini ci dicesse perché questo silenzio e se effettivamente può andare bene così se va bene così basta sappiamo che ognuno dei libri deve fare quello che può alle nelle piazze invece se vuol dire la sua e se eventualmente vuole in futuro prendere anche altri tipi di provvedimenti ecco questo diciamo che è una situazione in cui è difficile poi trovare un punto di equilibrio perché comunque è stato un evento di grandissimo successo tu dici nessuno può fare come gli pare però insomma è difficile che quando porti tanta gente che porti i mercati sono d'accordo come fai a stare lì dietro che cade la goccia sono pienamente d'accordo o si dice che non ci fa niente è vero sono pienamente d'accordo però magari un minimo di attenzione sarebbe il caso secondo me qui non è stato usato neanche un minimo di attenzione un minimo di attenzione per far sì che sì qualcosa può succedere questo è evidente però cerchiamo di evitare e di ridurre al minimo eventuali problematiche che possa avere la piazza visto i soldi che sono stati spesi negli ultimi anni per risistemare è piovuto e mi pare che queste chiazze insomma piano piano andranno via magari se ci mettesse neanche dei solventi andrebbero via prima però vediamo un po' sentiamo che ne pensano delle chiazze no della piazza della piazza andiamo a sentire qui ci sono dei turisti tra l'altro tanti turisti signori buonasera che ne pensate di Arezzo pensate di questa piazza la piazza è bella è una bella piazza non siamo mai passati prima per noi a parte il kit che ci ha fatto il militare ed è molto bella ci sono qualche particolarità curiosa tipo quella colonna storta là che ci chiedevamo che ci chiedevamo come poteva essere la seconda guerra mondiale ah ecco già una risposta già una risposta e poi il particolare dell'orologio là mi ha lasciato qualche curiosità a fase lunare esatto a fase lunare io non lo sapevo ancora portate un bel ricordo di Aghezzo un bel ricordo di Aghezzo siamo qua da un'oretta appena chi va per ora cosa possiamo dire signori buon ricordo dormite qua no no siamo di ritorno siamo di ritorno siamo di Reggio Emilia di Reggio Emilia quindi tornano a casa stasera o domani no stasera si torna a casa salutatemi del rio se sta bene sì visto sì ho avuto ho avuto l'occasione di lavorarci insieme quindi lo conosco sono contento sono contento per lei grazie buon ritorno ci vediamo domani ciao